Io lo so che cosa vi state chiedendo in questo momento. Avete visto i risultati delle prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2023 di Formula 1 e vi chiedete se la Ferrari è davvero così indietro oppure la situazione è meno grave rispetto a quello che sembra vedendo Charles Leclerc in nona posizione e Carlos Sainz in decima. Per rispondervi a questa domanda servono alcune premesse. La prima è che prenderemo in considerazione le FP2 perché sono l'unica sessione che è disputata nelle stesse condizioni di qualifica e gara. E poi bisogna parlare del tracciato di Jedda che è una pista molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto in Bahrain soprattutto per quanto riguarda l'asfalto. Asfalto che a Sakhir era estremamente abrasivo e invece a Jedda è molto liscio per cui il problema della gestione delle gomme non dico che non si ponga del tutto ma è decisamente secondario rispetto alla pista del Bahrain. Una pista che richiedeva un assetto che rappresentasse un compromesso per la gestione soprattutto degli pneumatici posteriori invece in questo caso ci si concentra anche e soprattutto su quella che è la prestazione sul giro secco visto e considerato che certo a Jedda si sorpassa ma su un circuito cittadino avere un buono spunto sul giro secco è indubbiamente importante. Fatta questa debita premessa la Red Bull anche su un tracciato diverso da quello di Sakhir si è presentata subito in maniera decisamente competitiva facendo scintille sia figurativamente che anche letteralmente perché è sembrata molto bassa come altezza da terra. La RB19 si è dimostrata molto competitiva sia nelle mani di Max Verstappen che anche in quelle di Sergio Perez che è stato protagonista soprattutto di un long run molto interessante per quello che abbiamo visto oggi la Red Bull si candida ad essere la vera regina di questo gran premio anche se chiaramente è presto dirlo. Una cosa sembra chiara da quello che abbiamo visto oggi che la Red Bull è stata subito aggressiva non si è voluta nemmeno nascondere noi siamo questi e ci comportiamo in questo modo. Verstappen si è lamentato un po' del comportamento della vettura quando scalava di marcia ma sono minuzie rispetto ai problemi che hanno avuto altri team a cominciare dalla Mercedes. Una Mercedes che quantomeno sembra aver individuato l'origine dei suoi problemi in questa stagione. Sostanzialmente a quanto ha detto Russell si erano prefissati degli obiettivi errati soprattutto in relazione alle modifiche regolamentari che quest'anno vogliono il fondo piatto rialzato di 15 mm. Evidentemente la Mercedes ha cercato di risolvere sul nascere il problema del purposing arrivando però a sacrificare troppo in termini di performance e di deportanza. Sul passo gara la Mercedes è sembrata costante ma i due piloti non sembravano per nulla felici di quello che si è visto in pista e l'Alpine che è sembrata ringalluzzita su questo tracciato potrebbe rappresentare uno spauracchio per una Mercedes che non può ambire a impensierire la Red Bull né tantomeno quella che appare almeno in questo venerdì la seconda forza di questo mondiale ovvero la Stone Martin. È un'ottima notizia per la Stone Martin essersi dimostrata competitiva perché sulla pista di Jedda conta molto la velocità di punta che è uno dei punti deboli della MR23 e nel contempo non è molto importante la gestione delle gomme soprattutto quelle posteriori che invece è un punto forte di questa monoposto se la monoposto si comporta bene anche in condizioni di svantaggio vuol dire che si tratta di un'ottima notizia. Soprattutto Fernando Alonso è stato protagonista non solo di grandi prestazioni sul giro secco e tra l'altro avrebbe potuto fare qualcosa di più probabilmente ma ha commerso un errore in curva 22 ma soprattutto sui long run si è dimostrato molto costante e anche veloce quindi non è solamente una questione di mantenere lo stesso ritmo ma anche di avere un ritmo piuttosto elevato e con una Stone Martin così competitiva ci si chiede dove possa rientrare la Ferrari. Ferrari che a Jedda è arrivata con una serie di novità è ricomparsa l'ala posteriore monopilone che aveva dato problemi in termini di stabilità in Bahrain che ora invece sembra molto più salda una soluzione che consente di avere maggior carico ma minor drag. Si è scelto insomma di riportare in pista questa soluzione insieme anche a dei nuovi endplate dell'ala anteriore e delle modifiche al fondo ma ci sono delle novità anche per quanto riguarda i motori perché la Ferrari in via precauzionale dopo quanto successo in Bahrain ha deciso di sostituire il motore endotermico sia sulla monoposto di Sainz che su quella di Leclerc non ci sono penalità perché chiaramente si rientra ancora nelle allocazioni per la stagione e sulla macchina di Leclerc è stato sostituito anche la MGUH. Ricordo poi per chi non lo sapesse che Charles Leclerc dovrà scontare una penalità di 10 posizioni in griglia per aver installato la terza centralina stagionale sulla sua vettura quindi chiaramente il suo weekend sarà in salita. Per quanto abbiamo visto oggi la Ferrari si è nascosta sul giro secco verrebbe da pensare ma per quanto riguarda i long run ci sono stati degli sprazzi di velocità ma forse c'è una mancanza di costanza. È vero che la Ferrari sembra imperscrutabile durante il lavoro del venerdì ma la sensazione è che sicuramente non ci sia la possibilità di insidiare la Red Bull ma che ci sia anche la possibilità che la Ston Martin possa fare meglio della Ferrari. Sensazioni queste che capiremo meglio solamente domani in qualifica e poi in gara. È ovvio come vi dicevo prima che su una pista come quella di Jedda è importante fare bene in qualifica. Chiaramente Leclerc non potrà andare oltre l'undicesimo posto sullo schieramento e quindi non sarà semplice per lui rimontare soprattutto se il passo gara delle concorrenti non fosse così diverso da quello della Ferrari quindi è molto semplice rimontare nel caso in cui la propria macchina sia molto più competitiva o comunque abbia un vantaggio di qualche decimo rispetto alle altre vetture per cui sarà una sfida. La prima punta della Ferrari a Jedda sarà indubbiamente Carlos Sainz e la speranza è che la Ferrari possa aggrapparsi a un buon risultato in qualifica per riuscire poi a fare bene in gara ma lo scopriremo questo solamente domani. Io vi dico in ogni caso di stare attenti a curva 22 perché è il tratto della pista in cui i piloti hanno sbagliato di più e anche domani qualcuno in qualifica potrebbe commettere un errore. Poi su una pista come quella di Jedda gli sbagli si pagano molto cari a prescindere da dove vengano commessi. Lo sa bene ad esempio Mick Schumacher e quindi è lecito aspettarsi che in gara ci siano delle safety car e che qualcuno possa commettere errori anche in qualifica. Direi che vi ho spiegato tutto quello che abbiamo visto nelle prove libere di oggi per cui non mi resta che chiedervi il vostro parere su queste prove libere, le vostre sensazioni, fatemele sapere nei commenti. Vi aspetto sempre qui per i top e i flop del Gran Premio dell'Arabia Saudita lunedì mattina. Ciao a tutti e a presto!